Tutto il comparto della pesca sta subendo dei danni enormi determinati dal caro gasolio. Già tutto il settore era un settore fortemente provato dalla crisi determinata dalla pandemia e dal covid che avevano ridotto di molto gli introiti e creato una miriade di problemi a tutto il settore. Adesso l'incremento dei costi del gasolio sta mettendo in ginocchio tutto il comparto. Per tale motivo abbiamo provato a impostare un disegno di legge che punta a ristorare in parte i danni derivati da questo incremento di costi. Avrebbe una dotazione di 10 milioni di euro per dare seguito a quelli che sono stati degli interventi che avevano in parte ristorato per causa pandemia il settore proprio per evitare il collasso del settore ed evitare che decine di attività possano dover interrompere definitivamente la loro vita commerciale. È un'attività che in Sicilia è estremamente importante, che dà lavoro a centinaia di migliaia di persone e che ha un indotto a monte molto importante. E quindi è il nostro dovere provare a proteggerlo per evitare che scompaia o che venga fortemente ridimensionato da questa crisi.